Alla Camera di Commercio di Betlemme è stato presentato un progetto di ricerca basato sui dati statistici della produzione artigiana palestinese, la cui storia risale fino al XIII secolo. Un patrimonio tipico fondato principalmente sulla lavorazione di tre materiali, il legno d'ulivo, la madreperla e la ceramica. Gli oggetti prodotti sono soprattutto di carattere religioso e ripropongono soggetti di vario tipo, il presepio nelle più diverse espressioni artistiche, dalla dimensione più piccola alla grandezza naturale, il crocifisso, le corone del rosario, le statue della vergine e degli angeli, ma anche oggetti di uso comune come attrezzi da cucina, cofanetti e soprammobili con una varietà di fantasia e di gusto senza fine. Lungo gli anni è cresciuta l'abilità e la competenza degli artigiani che non si limitano a vendere i loro prodotti alle migliaia di turisti e pellecrini che quotidianamente transitano per i luoghi santi. Oggi, infatti, gli artigiani di betlemme esportano i loro caratteristici prodotti in varie parti del mondo, soprattutto attraverso agenti locali emigrati all'estero. In Italia, ad esempio, non è difficile trovare prodotti autentici di betlemme, soprattutto durante le festività natalizie. Si contano in città circa 30 laboratori artigianali registrati solo per la lavorazione del legno d'ulivo, un dato significativo di come l'artigianato sia diventato una delle principali risorse economiche di betlemme del circondario. In questo contesto ha assunto un ruolo importante il Centro Artistico Salesiano, che nel 2005 ha istituito tre settori di studio per ognuna delle materie prime descritte, al fine di conservare il patrimonio artigianale palestinese e contemporaneamente incentivare e sostenere la creatività di molti giovani locali. Da qui è nata l'idea e l'esigenza di creare un distretto artigianale di betlemme, la cui realizzazione si è resa possibile grazie ai fondi della provincia autonoma di Trento e alla collaborazione del VIS, il volontariato internazionale salesiano, che si occupa di sviluppo. Oggi alla Camera di Commercio di Betlemme c'è la presentazione sulla ricerca sulle industrie artigianali di betlemme, che è stata condotta dalla Camera di Commercio di Betlemme in collaborazione con il VIS. Questa ricerca rientra in un progetto che è condotto dal VIS e finanziato dalla provincia autonoma di Trento, che mira la costruzione di un distretto artigianale qui a Betlemme. Abbiamo già costruito una prima parte di questo distretto, che è la piattaforma dell'artigianato di Betlemme, che coinvolge sette associazioni che producono prodotti artigianali locali, tutti diversi, quindi dal legno d'olivo al sapone all'olio d'oliva, insomma prendo tutti gli articoli tradizionali. La ricerca fa parte appunto del progetto e in particolare dell'attività sulla disseminazione delle informazioni sulla tradizione artigianale tra i giovani in Italia, in Europa e soprattutto in Palestina e qui a Betlemme. Mi chiamo Feyrus Khuri e sono la vicedirettrice della Camera di Commercio del Governatorato di Betlemme. Diamo molta importanza all'artigianato, in particolar modo a quello tradizionale. Gli oggetti realizzati a mano rivestono infatti un ruolo fondamentale nell'economia di Betlemme, in quanto strettamente legati al turismo, una risorsa molto importante per la nostra città. Nel 2000, anno di inizio della seconda intifada, abbiamo vissuto un periodo di tracollo economico, in quanto il settore manifatturiero, come qualsiasi altro ambito di produzione, ha risentito della situazione politica. Ultimamente abbiamo notato un sensibile miglioramento e il numero di turisti e pellegrini che visitano i luoghi santi è aumentato decisamente. Nonostante ciò, il settore manifatturiero continua ad avere gravi lacune, che abbiamo cercato di colmare grazie a questo studio. Così siamo andati alla radice dei problemi, per poi studiare le varie possibilità per risolverli. Ci auguriamo che le organizzazioni supportino questa iniziativa e presentino il progetto anche a livello politico, per ottenere migliori risultati. Qui in Palestina arrivano numerosi gli aiuti economici e i progetti formativi. Saranno in grado di portare ad un significativo miglioramento della condizione palestinese? La presenza delle ONG e più in generale delle organizzazioni internazionali in Palestina è molto molto importante. Sapete, dopo più di 45 anni la Palestina per due terzi, in particolare la Cis Giordania ma anche Gaza, continua ad essere un paese sotto occupazione e l'unico modo per aiutare il popolo palestinese è attraverso gli aiuti pubblici allo sviluppo, che spesso sono gestiti dalle ONG. La presenza italiana continua ad essere molto forte, in Palestina ci sono 22 ONG che operano a fianco delle persone e a fianco dei palestinesi per aiutare e supportare i palestinesi nella loro vita quotidiana e per risolvere tutta una serie di questioni legate a bisogni fondamentali, come l'assistenza sanitaria, l'educazione, la ricerca di nuovi lavori. Ecco però c'è una domanda importante a cui dobbiamo rispondere. Dopo 46 anni si può veramente parlare di sviluppo di questo paese? Ecco, io senza nessun tono polemico però vi voglio dire di no. Non possiamo parlare di sviluppo per un motivo molto semplice, perché non sappiamo quale sarà il futuro della Palestina, non sappiamo se la Palestina diventerà uno Stato e non sappiamo come andranno queste trattative di pace. Quindi quello che ci dobbiamo augurare è che la pace si possa arrivare e nel frattempo noi vi garantiamo che tutti i fondi e tutti i soldi e le donazioni che arrivano qua sono gestite al meglio e sempre a favore dei nostri beneficiari e della popolazione palestinese. Però il passo successivo è che noi si possa contribuire anche allo sviluppo della Palestina. Quali sono i prossimi passi di questo progetto? Per il futuro speriamo di avere nuovi donatori, nuovi fondi ed in particolare ci focalizzeremo sulla questione della sicurezza sul lavoro. Quindi la sicurezza sul lavoro è un argomento che è trattato anche nella ricerca, che è un problema molto sentito qui a Betlemme, soprattutto nei laboratori artigianali. E quindi speriamo di avere nuovi fondi per mettere la norma a quanti più laboratori possibili.